La Terra è minacciata dai Micenei, antico popolo greco costretto a rifugiarsi nelle viscere del pianeta per millenni, che ora sta cercando di conquistare il mondo con soldati robot e mostri da combattimento. Il malvagio generale Nero, che ha convertito i corpi degli ufficiali in giganteschi automi, guida il regno dei Micenei, ma il supremo imperatore delle tenebre è il vero leader. Kenzo Kabuto costruisce il robot Grande Mazinga per contrastare i Micenei, insieme ad altri robot pilotate da Junono e Tetsuya Tsurugi. Dopo numerosi combattimenti, il Grande Mazinga si dimostra decisivo nella sconfitta dei Micenei. Ricordati di iscriverti al canale. Grazie.